Ciao, eccoci di nuovo su Bayer's Line. Oggi vediamo insieme i 4 consigli per gestire al meglio le spese Maverick. Vuoi saperne di più? Allora segue il video fino alla fine e supporta il nostro canale. Cos'è una spesa Maverick? Con questo termine si vogliono indicare tutti quegli acquisti che non seguono una politica di approvvigionamento, definita, stabilita a priori dal procurement, gestita attraverso logiche di processo inerenti alle direttive aziendali eseguita da soggetti preposti. Noi di Bayer's Line abbiamo affrontato l'argomento in alcuni nostri precedenti articoli, di cui ti lasciamo i link qui sotto nel caso te li fossi persi. Ma considerando le numerose difficoltà che si possono incontrare nell'ottimizzazione di questa tipologia di acquisti, abbiamo pensato di tenirti un ulteriore breve approfondimento per alginare queste spese. Eccoti quindi i 4 consigli per organizzare al meglio le spese Maverick. 1. Identifica la tipologia di spesa. Solamente capendo l'area interessata potrai identificare un piano di azione. 2. Determina le principali cause della spesa. Un'errata credenza di convenienza economica senza la visione dei costi associati. Un'errata comprensione del processo di acquisto. Un elevato dispendio di tempo ed energie. 3. Analizza il processo di acquisto. Verifica e fai verificare da una terza persona tutti i passaggi dell'iter di acquisto. La semplificazione deve essere un diktat. 4. Responsabilizza i colleghi addetti alla spesa. Tutti i responsabili devono essere messi a conoscenza di quanto, cosa e come viene speso nell'area di competenza. Molto bene! Per questo video è tutto, ma prima di lasciarci ti facciamo una domanda. Hai già implementato delle procedure per ottimizzare gli acquisti Maverick? Facci sapere cosa ne pensi e qual è la tua personale esperienza nei commenti. Se vuoi avere maggiori informazioni, come sempre, ti ricordiamo di visitare il nostro blog e di leggere l'articolo dedicato. Se questo video ti è piaciuto, sostenici con un bel like, iscriviti al nostro canale e per non perderti i prossimi video, attiva le notifiche. Arrivederci e nel frattempo continua a seguire la linea dell'acquisto efficace. Segui Buyer's Line!